Giuro di essere fedeli alla Repubblica italiana, di osservarle la Costituzione e di adempiere con disciplina e donore per la difesa della patria, della salvaguardia e dei tre istituzioni. Volontari in ferma prestitata nel terzo blocco 2020, lo giurate voi? Giuro di essere fedeli alla Repubblica italiana e dei tre istituzioni. Giuro di essere fedeli alla Repubblica italiana e dei tre istituzioni. Giuro di essere fedeli alla Repubblica italiana e dei tre istituzioni.